bentornati nuova puntata dedicata ai filtri di photoshop ma c'è una novità perché infatti l'ultima volta abbiamo terminato i filtri artistici quindi adesso possiamo dedicarci ai filtri della cartella distorsione cominciamo dal primo che si chiama bagliore diffuso allora andiamo innanzitutto a impostarlo a zero in maniera che ci rendiamo conto come sempre di quello che stiamo facendo l'area trasparente la mettiamo però a 20 perché se noi la mettiamo a zero quello che succede che l'immagine diventa tutta bianca vedremo perché in questo momento se io vado a fare on e off che posso fare da questo pannello vedo che non cambia fondamentalmente niente allora mi posiziono in un'area da cui riusciamo a vedere bene a capire quello che sta succedendo ovviamente la granulosità come potete intuire va a introdurre una sorta di rumore fotografico di grana della pellicola in una maniera che devo dire abbastanza gradevole se state cercando un effetto di questo tipo l'area con bagliore va sostanzialmente a schiarire le alte luci rendendole ancora più luminose mentre l'area trasparente va a schiarire tutto comprese le ombre quindi se io vado ad aumentarlo sto schiarendo tutta quanta le immagini andando proprio a bruciare i dettagli ora se usato con parsimonia questo effetto può creare un'immagine molto carina perché aumentando il rumore gestendo l'area con bagliore io posso andare a ottenere un'immagine di questo tipo quindi partendo da un'immagine normale questa è un'immagine abbastanza flat perché è stata fatta con tecnica hdr in modo da catturare più dettagli possibile sia nelle ombre sia nelle alte luci nel momento in cui io vado ad applicare questo filtro l'ho schiarita dando un effetto volendo un po vintage anche per via di questa grana che è presente che poi di cui posso gestire l'intensità è un effetto che soprattutto per foto ambientate secondo me molto carino e può riservare grandi soddisfazioni